Colpo della Juve Stabia. Il direttore sportivo Raffaele Rubino ha regalato a Mr. Walter Novellino il fantasista Nicolas Schiavi. Classe 1995, il calciatore nativo di Raffaele in Argentina è cresciuto calcisticamente nel Novara e ha vestito tra le altre le maglie del Modena e del Cuneo. Per lui 134 presenze e 13 reti in Serie C, alle quali si aggiungono 5 gettoni in cadetteria. L'attaccante ex Juve Stabia, ora il padova Daniele Paponi, piace al Monopoli. Scatenata la Fidelissandria, Sergio Sabatino, terzino sinistro, classe 1988, nell'ultima stagione alla CR Messina e vicino ai pugliesi. La squadra allenata dall'ex Avellino Luigi Panarelli ha ingaggiato anche Angelo Bonavolontà, in prestito dalla Paganese. Inoltre arriva in Puglia l'attaccante argentino Nicolas Bubas, il 32enne centravanti, ha grande esperienza in terza serie. Ed anche nei massimi campionati di Cile, Bolivia e Venezuela, oltre 200 presenze tra i professionisti con più di 50 reti siglate. Lo scorso anno, da gennaio a giugno, è stata la Camese, con 17 presenze e 6 gol all'attivo. La Vibonese si è assicurata invece le prestazioni di Luca Gelonesia, con nelle spalle ben 176 presenze tra i professionisti, impreziosite da 10 gol con le maglie di Ancona, San Benedettese e Vispesaro. Definita nel frattempo anche l'ultima panchina del giorno è ci rimasta vuota. Daniele Di Donato è il nuovo tecnico della Tina. L'ex allenatore dell'Arezzo è reduce dall'esperienza alla Vispesaro.